Ciao da Giardinaggio Irregolare, come sapete io faccio i video con il mio telefonino, quindi vedrete un sacco di schifezze e spero che non ci facciate troppo caso. Sento proprio la necessità di dire qualcosa su Endgame, lo so che circola il meme, vedrai Endgame ovunque, non si tratta di questioni relative alla critica cinematografica, ma a qualcosa di molto più marginale, di sociale. Il film è stato recepito molto male dai fandom, soprattutto questi fandom che hanno un orientamento sessuale non etero e che avevano costruito molte fanfiction, soprattutto sulla figura di Capitano America e quella di Bucky, che erano stati fusi in stacchi. Il fatto che Capitano America torni indietro nel tempo e viva questa storia d'amore con Peggy Carter, lo dichiara strettamente etero. Inoltre toglie anche protagonismo indipendenza alla figura di Peggy Carter, la quale non è più indipendente creatrice dello SHIELD, non è più una donna importante a capo di un'agenzia segreta, ma comunque rimane una donna sposata. domanda, farà il tacchino per Cap durante le scene del ringraziamento. D'altra parte, neanche a me è piaciuto il gineceo finale, durante la battaglia finale, le eroine raccolte insieme, in gruppo, non riesco a capire perché dovrebbero avere maggiore valore se mescolate. Mi è sembrata un po' quelle cose tipo, da un lato gli uomini, da un lato le donne, come si fa in chiesa, come si faceva a scuola, ai tempi di mio papà. Comunque la scritta, io quando sono entrata, c'era la pubblicità Disney di Aladdin, vedi quella scritta, capisci subito qual è la suonata. Il problema è che questa suonata è stata costruita così deliberatamente, la Disney ha chiuso queste porte, l'ha fatto apposta e ha detto voi ve ne dovete andare perché non vi vogliamo, e questo è dalla misura, quando un prodotto di massa, come questo film che è uno dei più grandi incassi della storia, ti dice tu, questo tipo di pubblico, non sei il mio target, io mi dirigo verso altro tipo di target, ti chiudo quelle porte in faccia, porte che io conosco benissimo e so benissimo che sono aperte e dove conducono, perché le fanfiction non le leggiamo solo noi, le leggono anche loro, anzi soprattutto loro, quando queste porte ti vengono sbattute in faccia non fa piacere, non è bello ed è un chiaro indice di una società molto repressiva, delle libertà individuali e del come ognuno di noi vuole vivere la propria sessualità, e anche di una fantasia, di un mister fantasy che invece di portarci verso la libertà, di essere salvifico, perde la sua fantasia, la sua capacità di sognare, la sua capacità di suonare la chitarra e ci porta verso una musica che conosciamo già e dalla quale pensavamo di essere usciti e in cui ripiombiamo dentro, questo non, no, ed era secondo me giusto segnalarlo, non c'entra niente con il film, è lo scambio reciproco tra la cultura di massa e il pubblico che la riceve. Era importante per me dirvelo. Alli, forever. Ciao da Lidia.